wey bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente è arrivata la patch 12.10 di fortnite che ha visto l'introduzione di un sacco di cose nuove challenge skin picconi deltaplani probabilmente un nuovo pack da 9.99 soprattutto anche le armi nel video di oggi infatti volevo farvi vedere tutte le novità che sono state introdotte senza portarvi via troppo tempo cerco di arrivare 10 minuti ugualmente perché devo fare la cosa delle pubblicità allora no scherzi a parte ragazzi avanti subito con la prima novità ragazzi le sfide di deadpool terza settimana per quanto riguarda il nostro tanto amato deadpool ragazzi e nuova coppia di sfide come vedete la prima ci dice di trovare vi siete iscritti al canale o raga vi siete iscritti al canale porca miseria porca dai voglio vedere le iscrizioni la prima sfida si dice di trovare ragazzi lo stura cessi di deadpool che probabilmente sarà esattamente dove abbiamo già trovato e dove c'è il computer nella schermata di caricamento ma non preoccupatevi che farò un video di spiegazione la seconda challenge invece ci chiede di distruggere le toilette quindi i water ricompensa per questa terza settimana di deadpool ragazzi uno spray una bomba ballerina con ovviamente il logo come potete intravedere di deadpool molto molto carino non lo utilizzerà mai nessuno però comunque molto molto carino andando avanti ragazzi abbiamo una nuova figata ovvero sia una variante dedicata a questa season del nuovo del nostro pesce secco si chiama assassin fish stick se non ricordo male alla jeans bond davvero meraviglioso occhiali da sole completo nero pistola in mano ed è davvero tanta roba ci auguriamo appunto che ci venga data come variante e che non sia invece una skin acquistabile andando avanti ancora ragazzi una delle più grandi novità di questo aggiornamento è stato trovato per quanto riguarda i backpack praticamente dovrebbe essere pronto il backpack pickaxe si chiama ovvero sia quando noi utilizziamo un piccone qualsiasi nel momento in cui lo switchiamo con un'arma il piccone viene messo automaticamente nello zaino quindi l'abbiamo chiesto da sempre speriamo che ci abbiano accontentato una piccolezza un dettaglio che ci fa assolutamente piacere ed ecco qua ragazzi una delle novità più interessanti si parla del ritorno dell'acog il fucile automatico con il mirino montato sopra ricordo bene fosse un 4x ora non me lo ricordo con precisione arma automatica che torna in due varianti ragazzi variante epica e variante leggendaria come vedete scope assault rifle quindi tanta tanta roba a me l'acog non dispiaceva se devo essere sincero vediamo che se in questa season farà il suo lavoro ed ecco qua invece una nuova arma ancora però c'è una piccola controversia nel senso non si sa se sia su battle royale o su salva al mondo perché è stata trovata in entrambe le cartelle dei file di gioco la differenza sono però i danni come vedete si chiama the purpose prior quindi il lanciapepe boh non lo so tradotto così è una specie di p90 per renderci conto utilizzerà le munizioni leggere avrà un 1.5 secondi di tempo di ricarica e abbiamo un caricatore da 34 nella versione epica 22 il danno al body nella versione leggendaria 20 nella epica 22 nella leggendaria dicevo che quest'arma è stata trovata anche sul file di salva al mondo ma toglie 46 quindi abbiamo dei buoni propositi e andando avanti ragazzi per tutti quelli che hanno acquistato nella season 9 barra 10 non mi ricordo 10 credo l'alieno verrà data una versione nera una variante nera del nostro alieno tanta tanta roba ragazzi insieme ovviamente al suo piccone ma vediamo infatti le nuove skin trovate nei file di gioco non so ancora i nomi però abbiamo questo lo chiamiamo amichevolmente geremia il fattore meccanico che come vedete è un contadino però con la parte sotto robotizzata abbiamo anche una signorina con i dreadlock verdi non so perché ma mi sembra una variante non di colore neon di quella che è stata ottenuta nella ps4k nella switch cup qualche mese fa come vedete due varianti per questa skin abbiamo anche una nuova skin molto steampunk style con un bel cuoricino in mezzo alle zin e avanti cioè questo ce le hanno un po tutte le donne questa però ce l'ha disegnato andando avanti ragazzi abbiamo anche invece la versione maschile di questa skin e una nuova skin doppia anche qua andiamo a riprendere i due colori bianco e nero che sono un po il tema il colore di base di questa season molto molto carine speriamo che ovviamente ottenendone una otterremo anche l'altra il backpack della ragazza di prima è proprio questo e questo invece sembra essere il backpack della skin del pesce secco assassino davvero ignorantissimo divertentissimo lo devo avere assolutamente con il codice xyuderone daie 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 andando avanti ragazzi abbiamo anche quattro nuove coperture per le armi vediamo la prima di colore rosso molto rapidamente ce n'è una gialla astrissi ancora più velocemente ce n'è una che va a richiamare una notte stellata e per chiudere credo che questa invece sia dedicata alle due skin femminili che abbiamo visto prima ed eccolo qua invece ragazzi finalmente nei file di gioco inserito anche il backpack di deadpool verrà ovviamente dato insieme alla skin che dovrebbe essere appunto la skin segreta di questo capitolo 2 della season 2 tanta tanta roba ragazzi per il nostro deadpool e abbiamo le sfide non dovrebbero essere quelle di tnt tinas trial dovrebbero essere le sfide settimanali vediamo se riusciamo molto rapidamente a vederli insieme 400 mila punti esperienza la prima ci chiede di cercare forzieri a parco pacifico oppure a pantano palpitante la seconda ci chiede di distruggere le strutture avversarie e ora io non leggo bene perché purtroppo è piccolissimo vediamo se riesco ad ingrandirmi anch'io sono vecchio ragazzi sono vecchio non riesco più a leggere bene ragazzi ho le lettere che sono grandi così distruggere le strutture degli opponenti con le mine di prossimità quindi mine di prossimità ragazzi molto probabilmente in arrivo abbiamo anche la terza che è pesca con gli esplosivi 5 volte da buttare della roba esplosiva nei punti di pesca numero 4 eliminare avversari all'agenzia oppure a sabbie sudate andando avanti cercare scatole di munizioni nelle location nominate quindi tutte le città tutti i posti che hanno un nome andando avanti ragazzi abbiamo utilizza le granate di coi credo che siano quelle quelle che ti copiano no le granate clone o 5 volte quarta ultima sfida fare danno agli avversari mentre si sta cavalcando guidando una nave una barca fare una scansione di uno scagnozzo in match differenti cinque volte penultima visitare grumpy greens che non mi ricordo quale sia in italiano mo dao e rischi rils rabite rischiose e per finire collezionare differenti armi dei boss questa sarà molto tosta perché i boss ragazzi spaccano davvero il culo ed ecco qua ragazzi per andare verso la fine del video i due nuovi balletti non ne so ancora il nome questo è il primo e questo il secondo se non ricordo male però questo ha l'attraversamento ora andremo poi a rivederlo anche se in realtà mi sembra che sia il balletto del pass numero 39 non lo so forse mi sbaglio io e molto rapidamente ragazzi i picconi dedicati appunto alle skin che abbiamo appena visto carino questo perché ha del liquido blu che cade il piccone in versione nera della skin dell'alieno andando avanti un doppio piccone con i randelli e degli ananas alla fine non si sa bene perché e poi ovviamente il doppio piccone probabilmente dedicato all'assassino pesce secco quindi due pescioni neri tanta tanta roba ragazzi proseguiamo con questo che deve essere della skin con il cuore forse e so anche che ha due no questo è il piccone della skin femminile bianca e nera perché ha due varianti sia bianco che nero e invece questo ragazzi è il piccone del contadino robot per quanto riguarda invece salva al mondo siamo in chiusura ragazzi vengono introdotti gli spy lama che cosa sono gli spy lama niente sono semplicemente dei lama che potremo aprire con la possibilità di trovare al loro interno le skin dedicate per questo evento che verrà iniziato appunto che è iniziato proprio oggi e per chiudere ragazzi non si sa bene perché ma abbiamo una schermata di caricamento che in realtà è già presente nel pass battaglia insomma ragazzi abbiamo 42 secondi da passare insieme quindi vi chiedo dopo che avete visto tutta questa tutto questo popò di roba cosa ne pensate di questa patch 12.10 speriamo visto che ci sono già stati dei test per la patch 12.20 che martedì prossimo venga introdotta un nuovo venga introdotto un nuovo aggiornamento comunque un fix di questa patch io vi ringrazio insomma tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e sulla mia pagina instagram noi restiamo in live sulla piattaforma viola ciao 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 ciao